No, è inutile che raccontate, non c'è da raccontare storie. Il 25 aprile è la libertà di tutti. State attenti perché voi senza volerlo state calquestando. E questo è molto grave. Facciate ridere il monumento e venite con noi. Volete venire con noi. Allora sì, dimostrerete di essere uomini. Se no, no. Dai, partecipate con noi per piacere.